La pace del Signore sia sempre con voi. Ragazzi, grazie a tutti. Questa semplice è musica che prendo io alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con l'assistenza e con le offre in testa, qui dall'inizio della pace. E qui, mettila in te, mettila in te, e dare un piatto all'intero della sua morte e l'inversione. Accomandiamo con bene l'inversione di nostro Salvatore, nel suo interesse e la vita. E che diamo la grazia di tutti i luoghi, per essere un attenzione della sua vita. E che ci stiamo preparando con l'assistenza e con le offre in testa, e che ci stiamo preparando con le offre in testa, e che ci stiamo preparando con le offre in testa, e che ci stiamo preparando con le offre in testa, ma se è vista anche un attenzione della sua morte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.